ciao ciao a tutti e bentrovati sul mio canale youtube adesso andiamo a fare insieme questi panini all'olio olio e latte se vi va seguitemi e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un like seguitemi allora ho preparato tutti gli ingredienti ecco qua sarà questo impasto semplicemente a mano quindi questa è la farina girando così con il cucchiaio proprio semplicemente non è proprio semplicissimo fare questi panini e quindi metto l'acqua vediamo ne lascio un goccino la metto dopo così mi regolo anche e metto il latte metto tutto il latte giro giro così con il cucchiaio sul canale ci sono altri video credo altri due ho fatto anni fa di panini all'olio presto a poco un po simili allora ci metto il lievito questo lievito praticamente ho creato un ricoli così veloce dalla pasta madre solida ho messo 50 grammi di pasta madre solida 50 di acqua 50 di farina infatti non lo uso tutto all'incirca ne metterò 90 grammi adesso io l'ho messo così ad occhio senza pesarlo ma presto a poco il peso è quello metto un altro goccino di acqua e giro così semplicemente con il cucchiaio ci metto poi anche il sale dopo aver girato un pochino io qui ho fatto qualche taglio scusate no ho messo lo zucchero il sale lo metto per ultimo ho messo lo zucchero e questo è il miele perché non avevo il malto ho messo il miele e quindi giro avete visto lo zucchero non era tantissimo trovate le dosi all'inizio in descrizione finisco di mettere l'acqua e continua ad impastare scusate i rumori di sottofondo mentre registro allora impasto impasto così con la mano poi ci aggiungo il sale vediamo se serve metto un altro cucino di acqua ma forse va bene così perché poi devo mettere comunque l'olio quindi continuate tranquillamente ad impastare a io qualche taglio lo faccio sul video vediamo scolato bene il bicchiere bicchieri del latte e dell'acqua allora dopo di che verso l'olio lo metto così tutto tutto insieme poi lo faccio assorbire piano piano continuo per farlo assorbire beh forse era meglio un pochino per volta vabbè comunque continua così fino a che l'impasto non l'ha preso bene non ha preso bene l'olio ok continuo e una volta una volta assorbito continuo metto l'impasto sul piano di lavoro e lo lavoro un pochino così in questo modo ok ok ci siamo si vi consiglio l'olio di metterlo un po per volta perché così vedete ci è voluto un pochino più di tempo per farlo assorbire bene un altro pochino con questi guanti non si lavora bene anche perché mi stanno un po grandi forse è quello e una volta pronto ho preparato una bacinella non serve mettere l'olio perché già nell'impasto e quindi ci metterò l'impasto e lo lascerò in lievitazione io l'ho lasciato a temperatura ambiente non fa caldo quindi può stare altrimenti se volete potete fare anche un passaggio in frigo in questo caso di almeno 10 12 ore e aspetto che l'impasto raddoppi ecco l'impasto dopo l'incirca 5 ore a temperatura ambiente adesso vado a fare le pezzature questi panini avranno bisogno di altre due lievitazioni adesso vi faccio vedere quindi adesso farò delle pre forme diciamo così taglio così ad occhio insomma non è che mi metto lì a pesare però presso a poco il peso sta intorno ai 150 grammi quindi ci farò 6 7 7 panini questo lo aggiusto un pochino se ne vedo uno grande un altro più piccolo magari lo aggiusto un pochino poi dopo vado li piego così semplicemente il rotondo in questo modo faccio dei panetti praticamente faccio dei panetti che metterò a lievitare sopra un telo dove ho messo un po di semola e quindi li terrò ancora un paio di ore con un paio di ore anche un po meno ci siamo aspetto che si gonfiano un pochino dopodiché li riprendo li ho tenuti anche meno di due ore diciamo un'ora e mezza si sono gonfiati un pochino e poi vado ad allungarli così però uso un matterello così senza spingere troppo leggero pochissima semola sotto giusto per non farli attaccare ma non si attaccano e li arrotolo in questo modo ecco qua quindi li rimetto direttamente sullo stesso telo dove erano prima procedo in questo modo per tutti gli altri fino a che non li ho arrotolati tutti dopodiché devono ancora lievitare qui ho accelerato un pochino vi faccio vedere meglio devono lievitare ancora un altro pochino e quindi i tempi come sapete sono relativi diciamo un'altra oretta un'altra oretta e mezza calcolate vedete voi come si gonfiano un pochino si può passare alla cottura ecco qua poi insomma se fa tanto freddo ci vorrà di più se fa caldo ci vorrà di meno insomma come sapete i tempi di lievitazione variano a seconda delle temperature ecco qua ok ed eccoli pronti tutti allora passato il tempo quando li vedo un po gonfietti quindi quando hanno lievitato un'altra ora e mezza due ore anche se volete e li preparo acceso il forno a 240 gradi con uno spruzzo di vapore poi li spennello con olio e acqua ok in questo modo di farli lucidare un pochino volendo anche con il latte si possono spennellare con l'uovo e latte e ho infornato forno caldo ho infornato allora io ho abbassato subito poi a 220 e subito dopo a 200 per finire a 180 gradi quindi non devono colorire molto però comunque ci vuole 35 40 minuti per la cottura in alcune ricette ho sentito 20 minuti ma non era il caso tirarli fuori a 20 minuti poi dipende molto dai vostri forni bene direi che sono molto graziosi adesso vediamo anche l'interno sono morbidi li ho adesso li faccio vedere vi faccio vedere la morbidezza ok si sono ancora caldi poi li apriamo e vediamo bene l'interno e questi sono i miei panini all'olio ho preparato i pomodorini così se voglio se ne voglio farcire uno un pomodorino insalata ci sta bene ecco l'interno vedete comunque sono morbidissimi ok quindi mettiamoci quello che vogliamo sono molto adatti anche per fare per andare in gita se facciamo le prime gite al mare sempre se il tempo si rimette perché ancora bruttino ci prepariamo un bel panino all'olio e ce lo portiamo bene amici vi ringrazio della visione un saluto a tutti e ci vediamo prossimamente ciao ciao ciao